Amici golosi, per la rubrica i golosi in pillole, oggi prepareremo insieme gli involtini di salmone affumicato e avocado. Un antipasto o un finger food o un'idea per un aperitivo, semplice, senza cottura, facile da preparare. Ovviamente la ricetta completa la trovate sulla pagina e la ricetta completa la trovate sulla pagina. Grazie per la visione!